benvenuti a non solo case news oggi parliamo di procura speciale nuda proprietà e usufrutto la procura speciale è un documento sottoscritto e autenticato dal notario il quale consente a una terza persona che rappresenta la parte venditrice o la parte acquirente di presenziare all'atto con poteri di firma questo può capitare nel momento in cui sia cliente che venditore hanno problemi di salute oppure si trovano all'estero nuda proprietà e usufrutto il nudo proprietario è il detentore del titolo dell'immobile ma non lo può godere a beneficio dell'usufruttuario che a differenza del nudo proprietario ne può godere per un tempo determinato o per tutta la vita ne può raccogliere i frutti quindi lo può affittare non può cambiare la destinazione d'uso e paga le varie tasse imposte che sono dovute il nudo proprietario ha il vantaggio se vende la nuda proprietà e se mantiene l'usufrutto di goderne per tutta la vita in questo modo di incamerare subito il capitale per una sua tranquillità o anche per i suoi familiari da non solo case news è tutto arrivederci un giorno di prossimo grazie a tutti